Ho il piacere di poter far parte della presentazione di questo meraviglioso opuscolo libro per giovani ragazzi che si accingono a iniziare lo studio del flauto attraverso. Ho avuto il piacere di poter partecipare con qualche nozione, le prime nozioni che servono per l'emissione di una nota. Per quanto mi riguarda il DO3 gli altri colleghi hanno dato altri consigli sulle dinamiche, hanno dato anche consigli sulla terza ottava. Metodo che io penso che per i ragazzi che stanno per iniziare la loro attività, il loro primo studio, l'inizio proprio basilare del flauto è ottimo e speriamo di aver dato dei consigli utili e semplici per poter fare in modo che si possa arrivare a una base di inizio di studio e per arrivare poi a coltivare il flauto professionalmente con grandi soddisfazioni. Grazie a tutti!